Sappiamo che Verstappen è legato alla Red Bull fino al 2028 con un contratto da 40 milioni di euro all'anno che compresi bonus arriva addirittura a 70 e quindi una scelta folla è quella di abbandonare Red Bull per andare in un altro team tra l'altro un team che ha permesso di vincere tre titoli mondiali dal 2021 al 2023 con 54 vittorie e 32 pole position su 185 gran premi insomma un team che l'ha reso il numero uno ma allora perché si sta parlando di un possibile passaggio di Verstappen in Mercedes nel 2025? perché abbiamo visto in questi giorni la situazione in Red Bull è molto caotica a partire dal caso Christian Horner su cui è intervenuto lo stesso Jos Verstappen il padre di Max dicendo che lui lo vorrebbe fuori dal team perché sta creando più problemi che altro e quindi c'è una forte instabilità nel team di Milton Keynes e tutto ciò potrebbe portare a una rottura tra Red Bull e Verstappen non vedevo l'ora di fare questo video per analizzare questa situazione dirvi poi la mia opinione in merito ma soprattutto voglio sapere cosa ne pensate anche voi c'è la possibilità che Verstappen vada veramente in Mercedes nel 2025? Christian Horner rimarrà in Red Bull? andiamo ad analizzare tutti i temi e infine parleremo anche di Ben Sulayem perché sembra aver modificato l'esito di una gara del 2023 insomma possiamo dire una cosa tra tutti questi scenari la Formula 1 non sta facendo una bella figura e la situazione in ogni ambito è tutt'altro che trasparente per questo oggi andremo ad analizzare tutto insieme vi dirò anche la mia ma prima di continuare vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana escono nuovi video a tema Auto e Formula 1 e vi racconto tutte le notizie più importanti dicendovi la mia opinione mi raccomando per supportarmi in questo progetto attivate le notifiche a voi non costa nulla ma per me fa davvero una grandissima differenza e vi ringrazio di cuore di tutto il supporto specialmente nei commenti io sono Rastro e mi trovate anche su Instagram e ora iniziamo subito con questo video ma prima sigla iniziamo subito con una notizia bomba Verstapp nel suo ultimo contratto ha una clausola nella quale c'è scritto che se Helmut Marko dovesse lasciare Red Bull anche lo stesso pilota olandese potrebbe lasciare il team prima della fine del contratto che ha come data di scadenza il 2028 ma questo è sufficiente per far pensare a Verstappen di abbandonare il team? facciamo un piccolo passo indietro nello sconto tra Christian Horner e Oliver Mintzlaff che è l'attuale CEO di Red Bull abbiamo visto che ci sono due fazioni interne che stanno scatenando una guerra civile quella del team principal inglese sostenuta principalmente dalla parte di Red Bull thailandese e dall'altra parte vediamo la fazione austriaca guidata da Oliver Mintzlaff e sostenuta da Helmut Marko e Mark Mateschitz sappiamo che la famiglia Verstappen con anche Joss si è schierata apertamente a favore della fazione austriaca ma è evidente che se Christian Horner dovesse rimanere nel team si creerebbe una spaccatura importante una divisione netta che c'è già tra la parte di Christian Horner e quella di Oliver Mintzlaff sostenuto dalla famiglia Verstappen e secondo quanto riportato anche da Formula 1 Insider ci sarebbe una clausola nel contratto di Verstappen che lo lega a Helmut Marko infatti è possibile un'uscita anticipata dal team nel caso Helmut Marko dovesse lasciare Red Bull a tutti noi non piace Helmut Marko ma per Verstappen è stato fondamentale per la sua carriera infatti fin dai tempi dei kart Helmut Marko pensava che Verstappen potesse diventare un campione ci ha creduto fin dall'inizio insomma per questo il legame tra Max e Helmut Marko è molto forte al contrario Christian Horner pensava che Verstappen fosse un pilota cerbo che non potesse diventare un campione perché era troppo istintivo commetteva troppi errori in pista e non riusciva a maturare quindi Horner diceva anche che un pilota così giovane a soli 19 anni non poteva sostenere il peso e la pressione di un team importante come Red Bull che lo stesso Christian Horner ha portato in auge specialmente con Vettel prima poi sappiamo come è andata la storia Helmut Marko può dire di aver avuto ragione per questo il legame tra Helmut Marko e Verstappen è molto forte a tal punto da mettere nel contratto firmato nel marzo 2022 una clausola che lega il loro futuro insieme quindi all'interno del team Christian Horner sa che se va a litigare con Helmut Marko e nel caso si dovesse creare una spaccatura ancora più importante beh Verstappen ci andrebbe di mezzo sappiamo anche che Adrian Newey prima era sostenitore di Horner adesso sembra che sia più dalla parte degli austriaci e quindi piano piano Christian Horner si sta ritrovando da solo all'interno del suo team è come se il comandante della nave si ritrova senza la sua ciurma che lo sostiene ma al contrario vogliono mandarlo via capite bene che è una situazione molto instabile in Red Bull la macchina è fuori discussione e gli permette di dominare in Formula 1 ma se il team si dovesse spaccare a metà il futuro di Red Bull è molto incerto sappiamo anche che Jos Verstappen ha parlato con Toto Wolff e Mercedes per il mercato piloti e quindi c'è anche uno scenario di mercato che vede Verstappen andare in Mercedes nel 2025 ma ci tengo anche a dirvi la mia opinione in merito prima però voglio dirvi un'altra cosa la spaccatura all'interno di Red Bull non è data solamente dalle questioni private di Christian Horner ma anche dal tentativo di Horner di acquisire il team con dei finanziatori britannici all'insaputa della parte austriaca di Red Bull e tutto è partito dall'anno scorso quando Christian Horner ha cercato di avere sempre più potere all'interno di Red Bull soprattutto sulla parte decisionale dell'assetto sportivo del team sicuramente molti di voi si ricorderanno come Christian Horner voleva estromettere il mutmarco su cui intervenne Max Verstappen per difendere l'austriaco e ci sono dei rumors che dicono che Horner nel 2023 si sia presentato agli Ovidia con un'offerta fatta da finanziatori britannici per acquisire una parte o tutto il team di Formula 1 di Red Bull e qual era l'obiettivo di Horner con questa mossa? beh ricoprire un ruolo ancora più importante nel team possiamo dire alla Toto Wolff che è anche azionista di Mercedes però c'è un piccolo problema questa proposta l'ha fatta all'oscuro della parte austriaca del team che non ha accolto di buon grado questa proposta fatta agli Ovidia e quindi secondo questa indiscrezione ci tengo a prendere tutto con le pinze perché nulla è verificato sembrerebbe che la spaccatura tra Horner e la parte austriaca di Red Bull è avvenuta già l'anno scorso e questi continui problemi che si verificano anche quest'anno sono la goccia che fa traboccare il vaso ma non è finita c'è di più infatti Horner si è salvato grazie alla parte thailandese di Red Bull perché la parte austriaca di Red Bull GMBH aveva già mandato un comunicato ufficiale a inizio febbraio per lasciare Christian Horner a casa con un comunicato freddo e conciso da dare ai media senza possibilità di replica e che aveva un effetto immediato e questo comunicato prevedeva il licenziamento e la rimozione di tutti i ruoli di Horner all'interno di Red Bull in questo caso la motivazione sarebbe stata per il comportamento non etico mantenuto da Horner quindi sulle sue vicende private ma Horner a inizio febbraio si è impuntato per rimanere nella sua posizione di team principal sfruttando sia la sua posizione da leader ma soprattutto utilizzando a suo favore una clausola presente nel suo contratto con Red Bull che ha permesso a Horner di avviare un'indagine interna indipendente quella che tutti noi conosciamo per far luce sulle questioni private che sono emerse poi nelle settimane successive Oliver Minzlaff ha accettato questa decisione di avviare l'indagine interna contro voglia e la parte di Red Bull di Ovidia che ridetiene il 51% dell'azienda ha di fatto coperto le spalle a Christian Horner c'è anche la questione di un avvocato che non è stato disponibile per 15 giorni non si sa per quale motivo insomma ci sono tante situazioni nascoste che tutti noi non conosciamo ma che riguardano solamente un team ovvero Red Bull per questo possiamo dire che questa telenovela di Horner continua e ci dimostra che il team campione del mondo che è primo in classifica ha tante cose da nascondere in questo momento a livello più burocratico politico ma chissà se ci sono anche alcuni scheletri dell'armadio che riguardano l'aspetto sportivo abbiamo già affrontato in passato il budget cap sforato di Red Bull però dopo quella situazione nessuno si sarebbe mai immaginato una questione come questa e vedremo come ne usciranno tutti i principali protagonisti voglio dirvi la mia in merito secondo me Horner è una posizione molto in bilico perché non è sostenuto dalla parte austriaca dell'azienda stiamo parlando del 49% di Red Bull Racing insomma non sono noccioline quando un leader non è sostenuto da gran parte delle persone al suo interno è probabile che ci possa essere una sostituzione anche perché si è messo di traverso Joss Verstappen che quando fa dichiarazioni non le fa a caso e se Red Bull dovesse avere anche il minimo dubbio di perdere Verstappen piuttosto sacrificano Horner e tengono Max nel team questo è poco ma sicuro ve lo dico anche ora secondo me Verstappen non andrà mai in Mercedes a meno che non si sfasci il team perché Red Bull gli dà una macchina competitiva lo riempie di soldi che motivo avrebbe l'olandese di cambiare team sicuramente avere una squadra più coesa aiuta ma attualmente questa RB20 ti garantisce di portare a casa i risultati cosa che Mercedes non può fare quindi penso che chi ha più da perdere da questa situazione è sicuramente Christian Horner non dico che è certo che perde al posto perché magari questa situazione si risolverà però secondo la mia opinione è la persona che può rischiare di più e su cui ci sono meno conseguenze se lo lasci a casa certo cambiare team principal durante il corso della stagione non è mai buono anche perché devi trovare un degno sostituto oppure metti una persona tecnica in attesa di un nuovo team principal che arriverà per il 2025 però se è l'unica soluzione per mantenere la stabilità in Red Bull beh sicuramente lo faranno Helmut Marko secondo me non abbandonerà il team e quindi anche il futuro di Verstappen è legato a Red Bull stessa cosa per Adrian Newey quindi vedo attualmente la parte austriaca più forte rispetto a quella thailandese nonostante entrambe valgano tanto a livello di azioni per la squadra se abbiamo visto un Horner che l'anno scorso faceva dei passi in avanti per avere sempre più potere nel team ora che ha tutto da perdere non deve fare nessun passo in avanti anzi dovrebbe fare qualche passo indietro per riavvicinarsi alla parte austriaca del team vi immaginate se Verstappen dovesse andare in Mercedes nel 2025? con Hamilton che andrà in Ferrari? sarebbe un mercato piloti assurdo però secondo me Verstappen non sceglierà mai di andare in Mercedes e quindi accanto a Russell vedo Kimi Antonelli Fernando Alonso ma non Max Verstappen poi sicuramente la certezza non ce l'ha nessuno in questo momento quindi anche una minima possibilità che Verstappen possa andare in Mercedes c'è perché l'instabilità di Red Bull è sotto gli occhi di tutti però c'è anche un contratto da rispettare quindi vedremo come si evolverà questa situazione ultima cosa di cui volevo parlarvi è di Ben Sulayem che ha difeso Alonso stiamo parlando se vi ricordate della penalità presa da Alonso durante il Gran Premio a Jedda nel 2023 su cui lo stesso Ben Sulayem è intervenuto per rimuovere quella penalità e per questo Ben Sulayem è sotto inchiesta per aver interferito sul risultato di una gara di Formula 1 questo secondo la BBC vedremo come si risolverà anche questa situazione però che il presidente della FIA intervenga su queste questioni non è qualcosa di nuovo ed è molto preoccupante la FIA dovrebbe essere un ente imparziale all'interno della Formula 1 che detta le regole ma che non interviene per modificarle o per approvare o non approvare delle penalità ci deve essere maggiore imparzialità cosa che Ben Sulayem negli anni non ha dimostrato se vi ricordate anche sulla possibilità di acquisizione della Formula 1 da parte di un fondo arabo lui ha detto la sua opinione sui social cosa che il presidente della FIA non può fare sono curioso di sapere la vostra opinione sulla questione Verstappen in Mercedes è possibile? non è possibile? stiamo parlando di fantamercato? sono curioso di leggere e rispondere a tutti i vostri commenti ma soprattutto ditemi come si evolverà la situazione che riguarda Chris & Horner rimarrà all'interno di Red Bull? Ben Sulayem rimarrà presidente della FIA anche in futuro? ditemi la vostra come sempre vi ricordo di lasciare un like di iscrivervi e attivare le notifiche per non perdervi nessun video che esce qui sul canale ogni settimana escono nuovi contenuti a tema auto e Formula 1 qui da Rastra è tutto ci vediamo a un prossimo video ciao 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 ciao